è rossa? si non l'ho sentita minchia vero è imbizzarrita quello di la è chiuso è da un pezzo andiamo su di qua sperando che sia libera Cazzo, non c'è qua ora Cazzo, non c'è qui Cazzo, non c'è qui Cazzo, non c'è qui Cazzo, non c'è qui si passa più troppi rovi non si può no vai un cazzo ma sei fuori è pieno di rovi ma sei fuori ma non vedi cosa c'è lì sono alti 3 metri dobbiamo uscire di là per forza troppo alti se è un pezzettino si ma così dobbiamo far forza andare di lì se è un pezzettino se è un pezzettino vogliamo bere il tè? di là un disastro è uscito lo scolo l'ho cagnato troppo ma com'è cagnato troppo? l'ho scruzzato devi solo chiuderlo appena appena non devi morsicarlo la tribù dello squirt e non va più e si sarà finito il brodo devi solo appoggiare ho messo due litri ma sei fuori più benzina no perché così mi tiene giù la belva doveva provarlo è un uomo è un uomo Grazie a tutti